Ecco un abbonato trattato come un signore. Grande! Ancora da Gumpio fa colazione, aspetta, ma io vorrei far notare un'altra cosa. Una serie di parassiti, signori, vergogliosamente. Per l'abbonato! Signore, di una frase storica. No, sono contento perché almeno riprendo un po' di soldi del canone. Viva la Rai! Viva! Viva!